Sono stati condannati, appena comprese tra i 5 e i 21 anni, gli otto nigeriani imputati nel processo Icarima, che avevano scelto il rito abbreviato ed erano accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e di singoli episodi di vendita di stupefacenti. La guppe Emanuela Carrabotta ha inflitto 21 anni e due mesi a Joseph Uo, detto Peppino, di 44 anni, 14 anni, un mese e dieci giorni a Future Samson, 28 anni, 14 anni a Cedro Charles Wagu, 33 anni, 6 anni e 10 mesi ciascuno a Christian Monday, 22 anni e Wisdom Monday, detto Bambino, di 23 anni, 6 anni, 9 mesi e 10 giorni ciascuno a Shadrach Obodo, di 27 anni e John Wilson, di 28 anni, e 5 anni più 22.000 euro di multa al quarantenne Crossag Bay, conosciuto anche come Felix o Felice. Il blitz dei carabinieri era scattato nel giugno di un anno fa e dall'indagine era emerso che il gruppo criminale aveva assunto il controllo dello spaccio di hashish, marijuana e cocaina in centro, senza che vi fossero stati contrasti o accordi con la criminalità nissena. Il gruppo, chiamato Icarim, è considerato dagli investigatori una cellula di una più grossa organizzazione cultista, sempre di origine nigeriana, conosciuta come Eie, contraddistinta per la ritualità di alcuni aspetti. I componenti, infatti, aprivano le riunioni declamando orazioni a sfondo religioso e poi discutevano delle attività illegali da portare avanti. Tutta la contabilità veniva annotata in un libro mastroverde, come vuole la tradizione del gruppo Eie, e nel registro venivano annotate anche le presenze dei componenti, le singole quote di partecipazione, quantificate in circa 150 euro, i ritardi o le assenze degli stessi sodali.